Ueeh! Non fare la banana flambeee! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, anche oggi uno sbrego di novità per quello che succederà nei prossimi giorni di Fortnite. Tanta tanta roba ragazzi, tra cui ovviamente l'arrivo dello starter pack di questa season numero 8 ragazzi, il Laguna Pack. Ne parleremo un secondo per capire quello che è successo, l'errore che è stato commesso da parte di Epic Games che ha scatenato il delirio nella community. Ti parleremo anche più nel dettaglio, con delle immagini anche della nuova pistola, quella che insomma è apparsa nelle news da un paio di giorni. Vedremo delle cose molto interessanti ed arrivano ragazzi, con questo primo video, le Eli News ragazzi. Quindi per chi era nostalgico delle terremoto news che sono purtroppo terminate, arrivano le Eli News. Quindi vedremo passo passo, piano piano, tutto quello che succede intorno a questi elicotteri che sono assolutamente da tenere d'occhio. Siamo con gli amici ragazzi del gruppo Telegram di Fortnite Italy. Ve lo ricordo, trovate nella descrizione il link. Andate a farci un salto se volete rimanere anche lì, aggiornati. Ma prima ragazzi, eh dai dai raga, la domandina ve la devo fare, ve la devo fare. Ci tengo tantissimo ragazzi ai vostri commenti qua sotto nello spazio apposito. E la domanda è molto interessante. Ma qual è il tuo starter pack preferito? Cavolo ragazzi, non sono tutti questi, ce ne sono altri. C'è per dire quello dell'avviatore, c'è quello della laguna che non ho messo. Il tuo preferito in assoluto qual è? Ragazzi, allora, come skin il mio preferito è il pack della season 5, dove c'è l'ace, l'asso. Quella di colore rosso, perché il backpack è strabello, la skin mi piace un botto. Ma se devo essere sincero, il pack di questa season, il laguna pack, con l'arrivo anche della skin per le armi, Beh, beh, tanta tanta roba ragazzi. Quindi ditemi qual è il vostro starter pack preferito qua sotto nei commenti. Intanto vi ringrazio ragazzi, grazie a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator, Xiu Derone, per scioppazzare di prepotenza. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ma quindi, ciancio alle bande, e bando alle ciance, andiamo subito subito a vedere questo laguna pack e a capire che cosa è successo. Allora, disponibile in questi momenti, in queste ore, il pack solo per gli utenti di PS4. Come sempre hanno l'esclusiva, perché loro in realtà lo acquistano dal Play Store, mentre chi ha Xbox mobile, oppure PC come me, lo deve acquistare in game. E quindi, loro ragazzi, lo hanno già disponibile. Il pack comprende la skin, comprende il backpack, che è appunto quella specie di chitarra, io lo chiamo più mandolino, a forma di ananas. E ovviamente, come vi anticipavo poco fa, la skin per le armi. Oltre, ovviamente, ai 600 V-Bucks. Quindi, ragazzi, per 4,99, fossi in voi, lo prenderei assolutamente. Il casino è successo perché mi sembra che su Play Store hanno scritto il magma pack o il lava pack. Minchia, è venuto su un disastro, perché tutti dicono il magma pack e non c'è la skin delle armi, quella della lava che avete già visto. No, ragazzi, è stato semplicemente un errore di trascrizione da parte di chi doveva fare il lavoro, quindi se qualcuno di voi pensa ancora che c'era la skin del magma, no, ragazzi, no. La skin è semplicemente quella dell'ananas, quindi non preoccupatevi. La skin, quella animata della lava, arriverà molto presto su Fortnite. Ma quindi, ragazzi, andiamo avanti e vediamo anche il prossimo grande aggiornamento, la grande introduzione dopo la sfera della Flint Pistol. Quindi, ragazzi, ne abbiamo già parlato in un paio di video, l'abbiamo già vista così, ma adesso è ufficialmente nelle news. E la particolarità di questa pistola è, come ci dice anche la sezione delle notizie, attenzione che è molto potente. Perché, ragazzi, dovete sapere, se non ve lo ricordate, che nei codici sorgenti del gioco c'è un paio, ci sono un paio di righe che parlano di rinculo dell'arma sul player. Quindi, ragazzi, probabilmente ad ogni sparo, vi ricordo che ovviamente è a colpo singolo, sembrerebbe che ci sia, hai capito, uno sbilanciamento del giocatore e che la potenza sia assolutamente interessante. Le notizie che mi arrivano sono che la rarità di quest'arma sarà comune e non comune. Sappiamo che utilizzerà i proiettili pesanti. Abbiamo delle immagini, ragazzi. Questo è un render, quindi questa è come ufficialmente sarà in-game l'arma. Come vedete, fa parte dei codici sorgenti, dove appunto è già ovviamente inserita. Ma ho trovato un'altra immagine davvero molto interessante che è un po' equivoca. Nel senso, alcuni leakers dicono che la rarità, come vi ho appena detto, è comune e non comune. Ma guardate, ragazzi, questa immagine è molto interessante perché sembra proprio in-game l'arma, solo che ha una rarità epica. Non so cosa dirvi qua, ragazzi. Io credo che l'immagine sia buona, nel senso, cioè potrebbe veramente essere così come la vediamo a terra, nel lutto a terra. Secondo me, la rarità, mi fiderei di più nel pensare che la rarità sia comune e non comune. Non credo che sia epica o leggendaria, anche perché abbiamo già la 44 magnum, abbiamo già la deagle come armi, come pistole pesanti, a meno che non decidano di togliere una delle due. Non lo so, ragazzi, staremo ovviamente a vedere. Ma andiamo avanti ed ecco un altro argomento interessantissimo, di cui non vi ho parlato nel preambolo del video. Oggi, ragazzi, dovrebbe iniziare l'evento per la skin Iconic. Non si capisce molto, perché stanno veramente facendo parecchie pubblicità per l'evento, ma ufficialmente non si è ancora visto molto. Questa, ragazzi, è un'immagine che dovrete prendere come ufficiale, perché è un'immagine, non è un prototipo, non è un render amatoriale, è una cosa vera. E sappiamo che con l'arrivo dell'evento della skin Iconic dovrebbe arrivare anche la nuova modalità di gioco, che era la detonazione. Vi ricordate che vi avevo fatto vedere anche il trailer? C'è un po' di confusione, ragazzi, perché sinceramente non sono molto chiari quelli di Epic Games. E soprattutto si riservano il fatto di far trapelare troppo le notizie. La cosa che penso io è, se fosse oggi l'arrivo, come detto, dell'evento di inaugurazione della skin Iconic, allora vuol dire che ci sarà un update e quindi ci butteranno dentro anche la pistola e le cose. Non lo so, ragazzi. Io vi faccio vedere quello che vedo e spero insieme a voi che oggi potremo vivere questa nuova esperienza di gioco, o comunque prestissimo nei giorni che stanno per arrivare. Speriamo davvero, perché sono molto curioso di giocare la modalità 5 contro 5 che ci starebbe davvero un botto. Ma arriviamo alla parte finale, ragazzi, le Eli News. Insomma, lo so... Ecco, facciamolo così. Ma arriviamo, ragazzi, alle... Eli News. Questo, ragazzi, è l'elicottero. Si è capito che sembra che ogni due o tre giorni l'elicottero si sposti, ma nei file di gioco sono stati trovati anche questi audio che, ragazzi, vanno a... Come si dice? Sono inerenti alla possibilità di rimanere senza carburante, ma non si sa a che cosa. Io ve li faccio sentire. Sentite... Li censuriamo un pochettino. Questi ragazzi sono... Sono deficiente, raga, scusate. Questi sono dei suoni relativi alla mancanza di carburante e quindi associabili assolutamente a un veicolo. Sarà questo il veicolo? Cioè, rimetteranno, ragazzi, la possibilità di volare sulla mappa con un elicottero? Non lo so. Io vi faccio sentire quello che sento e vi dico quello che vedo. Beh, ragazzi, per oggi le news sono arrivate alla fine. Vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Codice Creator Xiu Derone. Noi ci vediamo alle 13 in live. Ciao!